Un'apertura interiore. Che cosa è accaduto quando hai raggiunto un certo sentire? Commento. Ho provato un temporaneo stato di benessere, come un'apertura interiore, un allentamento delle tensioni e sulle prime non ne ho capito il perché. Poi ho sentito che i miei squilibri interiori si erano placati perché comprendevo di più. Credo però che per giungere al sentire che mi permetterebbe di non incarnarmi più nella condizione umana, dovrò aggiungere un sentire molto, molto più ampio al sentire che ho raggiunto. Per adesso intuisco questo del modo di procedere dell'evoluzione. Grazie a tutti.